Buongiorno Oggi siamo di escursione sul... dove? Valico di Chiusi Valico di Chiusi Minori? No, Maiori Maiori Sì Sei pronta? Sei pronta? Eh, ho le scape sbagliate però... Te andiamo a fare Primi tre chilometri fatti Oh, stiamo già cadendo Poi Poi Ciao E niente, abbiamo due secondi Abbastanza pianeggianti Amore, come vai tu? Sto raffreddato Ah Io inizio a delirà Ciao Fa peschetto quando non c'è il sole Fa caldo quando c'è il sole Ti manca? Alcuno Noi, i Pugini No, ci sta pure a... Puginetti 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 Prima di Puginetti 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 in fondo c'è il vesuvio coperto si riesce a vedere monte sant'angelo io e Giovanni 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 ci siamo fermati perché avevo le vertigine quindi siamo agli udici due a tornare indietro siamo quasi arrivati siccome il picnic ce lo siamo portato ma vediamo dove è passata la giornata facendo la pausa merenda con la banana stiamo rientrando merenda con la banana inizia a fare caldo la panchina mi stava chiamando inizia a fare proprio caldo ma su ne fa caldo c'è il pollo tutto rosso quello la testa la mette giù si la mia al contrario come si chiama? stecco si è bloccato in mezzo là ciocchino ciocchino guasinelli mamma e figlio ecco insomma per chi volesse saperlo mi sono fermata su questa punta qui ho iniziato a vedere le stelline per le vertigine e sono tornate indietro sono arrivata la macchina ora ci riposiamo e andiamo a mangiare direzione addorno no ravello 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 abboniamo ravello grazie a tutti